A Benevento, a San Giorgio del Sagno, la migliore scuola di pattinaggio a rotelle. È la Jolly Skate che ogni anno sforna miriade di campioni europei e mondiali. Questa sera abbiamo l'onore di vedere in pista una piccola grande campionessa. Fa parte della Nazionale Italiana, campionessa regionale categoria cadetti e bronzo al Nazionale. Allenata dal tecnico De Simone e dal suo staff qui allo Stadio Mazzella per la ASD Pattinaggio Ischia. Margherita Ciarreglio. Margherita Ciarreglio. Margherita Ciarreglio. Margherita Ciarreglio. Margherita Ciarregio. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.